ciao cari amici di youtube vi mando i miei più cordiali saluti grazie per tutto l'appoggio che mi date ufficialmente le visioni dei video che ho caricato nel mio canale san ten chan sono circa 3.256 o qualcosa del genere anche se i video sono 37 e alcuni li hanno visto più di 301 volte quindi in teoria dovrebbero essere più di 6.000 visioni io in questi giorni appena potrò caricherò nuove le recensioni letterarie nuovi video magari anche facendo nuove colazioni tratterò di ispirarmi a caricare nuovo materiale comunque se qualcuno di voi è interessato in qualcosa di particolare si comunichi con me sono anche disponibili a qualche collaborazione fra youtuber perché io sono un youtuber c'è delle funzioni speciali nel caricare e creare dei video quindi un saluto a tutti voi che mi avete mandato tanti messaggi mi seguite è una ragione per la quale io continuo a stare in youtube ho voluto anche mettere qualcosa in vimeo e in daily motion però non ho tempo per caricare tanto materiale anche se mi piacerebbe stare in vimeo e in daily motion devo studiare come farlo comunque grazie di tutto grazie per seguirmi se potete iscrivetevi al mio canale votate mi piace ai video che vi piacciono naturalmente tanti saluti e a presto ciao